Le Influencer, ragazze che dal loro cellulare condizionano mode e tendenze. Siete pronti a immergervi nel mondo freletico di una influencer? Un mondo fatto di viaggi, locali esclusivi, stile, fashion? Siete pronti a scoprire che cosa c'è dietro a un selfie o una foto pubblicata sui social? Influencer Girls L'unico programma che vi porterà nella vita quotidiana di 30 ragazze, 30 star del web, in lotta tra loro per una sfida all'ultimo follower. Influencer Girls Influencer Girls Influencer Girls